Ma buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è il 28 luglio e direi che come ogni fine o inizio del mese andiamo a vedere un po' come è messo l'orto. Perché questo? Perché è quasi arrivato agosto, è arrivato un mese di transizione dall'orto estivo all'orto autunnale e dopo andremo ovviamente verso l'orto invernale. Quest'anno con l'orto invernale e l'orto autunnale faremo grandi cose. Diciamo che quello che non abbiamo fatto con l'orto estivo causa tempi di trapianto un po' ritardati per il problema del tempo e per altri mille problemi come gli insetti che sono arrivati molto presto come le cimici oppure altri insetti che hanno magari danneggiato un po' la produzione. Diciamo che con tutto l'orto invernale ci rifaremo anche perché non sapete neanche voi ma ci sono tanti di quei progetti che devono partire. Tre progetti, non tanto tre, due progetti mi devono arrivare il materiale, dovrebbe arrivare tipo metà agosto e quindi dopo cominciamo a registrare tutti i video. Gli altri progetti bisogna aspettare che la soia venga trebbiata, grandissime cose. Quindi con questo qua io ti costruisco di iscriverti in modo che non ti puoi perdere proprio 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 niente. Con questo qua non so neanche quando uscirà questo video. Oggi come ti stavo dicendo prima è il 28 di luglio, dovrebbe uscire all'incirca inizio agosto. Bene, quindi appena uscirà lo starei vedendo, infatti se lo stai vedendo vuol dire che è proprio uscito. Con questo direi di partire un po' dall'orto numero tre, come partiamo un po' tutte le volte. Orto numero tre dove si sta un po' liberando, alcune prode sono incolte perché devono essere lavorate però ora non ho molto tempo, ora sto facendo crescere un po' di infestanti. Qua ci sono ancora i porri da raccogliere, le lascio crescere perché dopo prendo e vado ad integrare tutto al terreno in modo che portiamo un po' di sostanza organica. Perché dopo qua verranno fuori ben 400 metri quadri di piselli, cioè 10 prode perché andrà tutto stretto. 10 prode con due file ciascune. Ben 300 e passa metri di piselli a mezza frasca. Quest'anno con i piselli ne seminiamo tanti tanti. E questo qua mi servirà anche per fare un altro progetto che andremo a vedere più avanti. Come ti stavo dicendo le prode qua si stanno liberando, queste prode qua dovranno essere tutte strette quindi da tre prode ne verranno fuori all'incirca quattro. Ovviamente il passaggio come sempre rimane libero. Quindi diciamo che la cosa che vado a fare è questa qua. Ora non si vede tanto con l'orario che c'è ma vedi passaggio da 45-35 centimetri e proda da 75-80 centimetri. Il metodo di coltivazione biointensivo che sto utilizzando ed è anche il metodo che sto cercando di rendere standard quindi rendere uguale per tutti gli appezzamenti, tutti gli appezzamenti che cresceranno in futuro. La produzione come sta andando? La produzione sta andando molto bene, molto molto bene. Quante volte dico molto nei miei video, quante volte ripeto tante parole però non ci posso fare niente. Il più grosso problema che sto vedendo quest'anno sono le cimici. Infatti come andremo a vedere in altri video più avanti dove vado a fare alcuni trattamenti e i trattamenti che utilizzo adesso e che utilizzerò molto più avanti sono soprattutto diciamo per curare le cimici che ora non ce ne sono perché ha piovuto questa notte quindi se ne sono andate via ma tutta questa proda qua è lasciata alle cimici. Quindi questo qua è proprio il reparto cimici. Invece di qua ci siamo salvati, la produzione è più bella, vedi? Pomodori seminati quasi a metà giugno, sono molto più bassi. Pomodori seminati molto prima, quindi fine maggio perché come sapete abbiamo ritardato tutto. Sono ben alti 2,50 metri. Vedi? Io sono alto così e il pomodoro arriva lì sopra. Comunque guarda che spettacolo! Ora li ho anche raccolti quindi non ce ne sono tanti, però guarda che pomodori bellissimi. Questo qua dovrebbe essere il costoluto, non quello grande, quello un po' più piccolo. Il costoluto non mi ricordo, non è il fiorentino ma è un altro. Comunque guarda anche il gatterino vesuviano, il mio preferito, bellissimo. Il ciliegino, qua c'è una cimice, la prendiamo. No, è volata via, la volevo pestare. Qualche femminella però crescono, queste qua bisogna toglierle. Comunque guarda quanto piene sono. Abbiamo all'incirca secondo me dai 5-6 kg di pomodori per pianta di ciliegini e datterini e all'incirca sui 10-20 kg di pomodori per pianta sui costoluti eccetera. Guarda che produzione meravigliosa, non so se riesci a vedere tanto bene dalla cam ma è una cosa meravigliosa. E chi è dalla GoPro non si riesce tanto a distinguere bene i colori, dovrei prendere una camera più sofisticata. Avete ragione, però la GoPro è bella, è veloce. Guardate, questi qua sono i ciliegini qui là più scuri, dovrebbero essere tipo marroni. Infatti vedi che è proprio più scuro. E guarda che pomodoro che c'è, cioè guarda il mio dito, è questo. È tipo un ciliegino, si chiama ciliegino marrone, ciliegino cacao, una roba del genere. Non è marrone per niente, però è buonissimo. Qui abbiamo la Prodincolta, qui abbiamo i peperoni, attaccati sempre dalle cimici. Mi ho fatto dei trattamenti con l'olio di neem e il sapone molle. Usciranno sempre dei video, cioè più che usciranno li ho già registrati, basta editarli. Questo qua è il problema delle cimici che ti vanno a succhiare su peperoni e diventa marcio. Qui sotto abbiamo la seconda mandata di zucchine seminate in ritardo. Questa qua doveva essere la terza, però non ho seminato la seconda a causa tempo. Non ho neanche io il termine per descrivere il tempo quest'anno. Da una parte super positivo perché piove, dall'altra piove uno troppo, fa troppi danni. Però il riscaldamento climatico è anche questo qua il problema. Se non ci svegliamo non possiamo farci niente. Qua abbiamo i meloni seminati anch'essi in ritardo, sempre a causa tempo, però guarda comincia a venire fuori qualcosa. Invece le angurie che le ho seminate in circa un mese prima sono in super produzione. Infatti magari oggi ne vado a raccogliere tipo qualcuna, tipo questa qua che è pronta. Questa qua dopo me la raccolgo. E di qua ce ne sono altre, guarda, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, treici, quattordici, quindici. Ce ne sono un bel po'. Qui sotto abbiamo anche la coltivazione pomodori, basilico, che il basilico mai è morto tutto, causa trova pioggia. E anche perché secondo me c'è stato il grillo talpa che se l'è mangiato da sotto. Dopodiché abbiamo i porri, i fagioli e i pomodori. Una consociazione che si va ad aiutare, quindi i porri vanno a bloccare un po' tutte le lumache che vanno verso di qua. Il basilico mi va a tenere lontano un po' tutti gli insetti, invece i fagioli mi vanno a dare sostanza organica quando andremo ad integrarli alla proda. E più mi rilasciano azoto nel terreno, l'azoto che hanno bisogno i pomodori. Ora qua si è anche piegato un po' il palo, con tutto il vento è venuto l'altro giorno. Ha fatto grandi danni e sta facendo grandi danni soprattutto in Veneto, più nelle zone verso Treviso, quelle parti là. Il grande problema del tempo di quest'anno fa tanti 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 danni. Nell'orto numero due abbiamo l'appezzamento, quello che ho portato a biointensivo. Era già intensivo ma lo portiamo ancora più intensivo. Passaggi più stretti così andiamo ad ottimizzare meglio il terreno. Lo sfruttiamo meglio, riusciamo ad avere una produzione più intensificata con produzioni maggiori e costi minori e spreco di terreno minori. Ho seminato all'incirca un centinaio di radicchi, un po' di insalate, un po' di porri. Ma ora in queste prode qua dobbiamo mettere altri radicchi, altri finocchi. Diciamo un po' alla volta andiamo a trapiantare un po' dappertutto gli ortaggi invernali. Da seme, non da seme, tutte cose del genere. Dopo ovviamente quest'anno voglio utilizzare il telo TNT quindi a coprire, non dico il tutto, ma all'incirca il 50%. In modo da aumentare le produzioni e avere ortaggi per un tempo più lungo. Di qua abbiamo una proda vuota che deve sparire. I pomodori che li sto lasciando in modo che tutte le cimici vanno di qua e non di là e così di là è salvo tutto. Di qua abbiamo le zucchine che era la prima mandata ma a causa delle cimici hanno prodotto soltanto per un mese anziché produrre per due o tre mesi. Ora sembra che stai ripartendo qualcosa però diciamo la produzione è veramente molto scarsa. La sto lasciando qua in modo che tutte le cimici vanno qua e comunque riesco a raccogliere due o tre zucchine al giorno invece di fare magari 30 zucchine in un giorno. Dobbiamo diminuire la produzione ma a causa sempre delle cimici bisogna fare anche questi sacrifici quindi sacrificare una parte di produzione per salvare tutte le altre quelle là e tutto il resto. Ma quello che dico io è molto semplice la soia è una pianta molto ambita dalle cimici. Il problema è che quest'anno non ce ne sono i cimici sulla soia cioè guarda è vero che ha piovuto ma è vuota è perfetta è vero che deve ancora nascere il frutto ma di solito questo stadio qua di crescita è già non dico piena ma infestata. Da una parte meglio perché la soia in teoria dovrebbe produrre di più però da una parte peggio perché l'orto produce ancora meno però non ci possiamo fare niente come vi dico sempre. Spostandoci all'orto numero uno l'orto quello che è proprio bio intensivo lo sto sfruttando al massimo comunque qua puoi vedere anche tutta l'erbetta tagliata. Infatti se ti sei perso il video dove ho acquistato un taglia erba a 50 euro te lo lascio in descrizione in modo che te lo puoi andare a vedere un video che merita. Ho preso un taglia erba l'ho modificato non tanto modificato l'ho sistemato e va meglio di uno nuovo che costa 3 400 euro 50 euro di taglia erba un gioiellino. Il taglia erba mi serve anche per produrre il compost visto che una concimazione che sto facendo ultimamente è proprio compost stallattico e altre cose. Andremo sempre a vederla nei progetti futuri e per finire arriviamo alla parte numero uno la parte destinata diciamo ai fagioli al mais e ai fagiolini o tegoline dette in veneto chiamiamoli in italiano fagiolini e fagioli e mais e anche un po di gira con sole chiamati girasole. Il vento ha steso tutte le piante per terra infatti vedi tutte le piante erano tutte belle su ora sono cadute tutte causa troppo vento vedi anche il mais si è tutto piegato tutto rotto ed è caduto qui la lavanda sta andando molto bene vedi vento fortissimo. Solitamente il vento in questa zona qua arriva da quella parte là oppure da quella parte là questa volta è arrivato tutto da di là invece col secondo temporale è arrivato tutto da di qua e mi ha distrutto un po diciamo tutte le piante di mais e non tanto distrutto ma piegate tutte. Ma dopo comunque secondo me tra 20 30 giorni diciamo fine agosto i fagiolini e fagioli sono tutti pronti quindi si raccoglie tutto e non dà più problemi e quindi tutte quelle prode là non danno più problemi con il mais. Diciamo che fare queste barriere qua con il mais è stata una grazia perché mi ha protetto un po tutte le altre piante vedi di qua qua abbiamo la barriera con il mais questi qua sono fagioli perfetti a parte una pianta che è caduta. Fagioli perfetti invece qua vedi dove non c'era la barriera di mais vicino sono un po tutti più buttati per terra comunque nessun problema l'importante è che non grandi perché dopo là si che sono problemi grossi comunque vedi tutti i fagiolini sono belli in produzione fiori bellissimi. E dopo aver preso e raccolto tutti i fagioli tutti i fagiolini prendo la pianta la rimetto sulla proda quindi qua abbiamo il passaggio di qua abbiamo il passaggio rimetto tutti i fagiolini messi tutti nello stesso verso in questa proda qua. Passo con la forca vanga ad arieggiare il tutto ovviamente tolgo l'irrigazione in modo che non vado a danneggiare niente lascio là il tutto all'incirca per una settimana in modo che tutte le foglie tutta la pianta comincia a decomporsi diventa molto più secca molto più lavorabile e per finire passo sopra con il tagliaerba fare all'incirca una sorta di trincia e per ultimo vado a fresare tutto. Qui nel terreno ha lavorato in profondità ho arricchito con sostanza organica e soprattutto hanno lasciato azoto nel terreno. Questo qua mi permette di fare una concimazione non al 100% ma al 50% perché una buona concimazione me l'hanno già fatta le piante che c'erano sopra prima. Mi raccomando iscriviti in modo che puoi sopportare tutto quello che faccio e mi raccomando commenta qui sotto e iscrivimi tutto quello che vuoi. Io con questo qua vado subito a editare questo video perché diciamo qua fuori fa abbastanza caldino non è tanto il caldo ma è l'umidità che sarà al 200% e con questo qua ciao a tutti.